Tre giorni di festa nel quartiere Kona, tanti spettacoli, tanto buon giro, insomma tanto divertimento. Allora sono tre giorni bellissimi, il 15 giugno venerdì cominciamo con la notte della Taranta a Gliallabua, quindi ci sarà gente a go go go. Sabato c'è Franceschiello Evendi, chi è? Quel che fa la Per Street, chi è Franceschiello Evendi? Giusto Alessio? Quindi ci sarà gente a go 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 e domenica purtroppo per voi c'è un certo Vittorio il fenomeno. E ci sarà da mangiare, da bere, da... che cosa ci sta? Perché io c'ho un po' fame già. Abbiamo tutto, abbiamo la birra, abbiamo i rosticini, abbiamo il formaggio fritto, le salsicce, la porchetta, abbiamo ce l'è per tutti e per tutti i gusti e per tutti i palati. Quindi non resta che venire alla Kona a partire da che ora e fino a che ora? Allora, dalle ore 19 penso, aprono i stand, fino a l'una, l'una, quando è il permesso perché dobbiamo essere precisi. Assolutamente, la sicurezza per noi è importantissima. Sì, fino a verso, sì, l'una, le due, più o meno. Le tre e quattro poi dipende, no no no, fino a l'una stiamo lì, quindi sono tre giorni e sarò presente anche io tre giorni, perché, ho capito, non ho preso impegni per stare lì insieme a loro, con il mio fratellino a musicante a spettacoli, agenzia e vi aspettiamo. Teramo, non mancate, giusto? Assolutamente, non potete mancare per queste tre giorni così importanti, non solo per il quartiere della Kona, ma anche per tutta la città di Teramo. Se mi permetti, Vittorio, di ricordare le serate, cominciamo domani sera, venerdì, 15 giugno, con la notte della pizze della Taranta, direttamente dal Salento e gli alla Boa. Continuiamo con sabato, come diceva Vittorio, con la serata di Franceschello Eventi, con il nuovo format che sarà Franceschello Eventi in Tour, con il suo staff, con il suo vocalist, con il suo DJ. Concluderemo questa grande tre giorni di eventi con Vittorio Il Fenomeno e La Fenomeno Band. Quindi non resta tutti i cittadini terramani e non solo, venire appunto alla Kona? Quartiere Kona, non mancate, mi raccomando, numerose, che è un evento mondiale, diciamo, dai su, è di livello, diciamo, dai, ci sta per tutti i tipi, per i giovani, per i meno giovani e per gli anziani. Ci sta per tutti quanti, insomma, chi vuole venire, ok? E ti aspettiamo, Serena, ti aspettiamo a voi e a tutto lo staff di Teleponte. Grazie. Grazie.